Si può fare, sì, si può ancora fare, e come? La gara di mercoledì scorso con la quotata carrarese ha ribadito che la lucchese è in buona crescita complessiva e che può dire la sua nella lotta per la salvezza. Ci mancherebbe altro, direbbe l'antico saggio, siamo neanche a metà campionato. Volendo tracciare un primo bilancio stagionale alla lunga sosta natalizia, il campionato riprenderà subito dopo l'epifania nel fine settimana del 9 e 10 gennaio, si può affermare che dopo un lungo periodo anche drammatico, vedi vicenda Covid, la lucchese comincia a vedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Chiaro che la situazione resta a dir poco complicata, guardate la classifica e capirete perché, anche se le altre sono adesso relativamente più vicine. Ma al di là dei punti, 8 nelle ultime 5 partite, è la cifra del gioco e delle prestazioni offerte da Meucci e compagni che lascia davvero ben sperare. Dal primo agognato successo nel recupero di Pontedera, passando al Bisco il Piacenza e ai pareggi con Livorno e Carrarese, la squadra ha dimostrato che è forse il peggio ormai alle spalle. Una ritrovata condizione fisica, il fatto che Lopez abbia finalmente potuto lavorare a ranghi quasi completi, giocare una volta alla settimana e un morale risollevato dai risultati suddetti hanno fatto tutta la differenza. Chiaro però che la strada è ancora lunga, molto lunga, alla ripresa ci saranno subito due avversari tosti come il Lecco in trasferta e sabato 16 gennaio, gara anticipata, la capolista Renate al Porta Elisa. Intanto qualcosa si muoverà sul fronte mercato, la rosa va sfoltita e ritoccata, un forte attaccante da affiancare a bianchi e un centrocampista di acclarato livello sono le priorità e il non facile lavoro che attende il direttore sportivo Daniele De Homma.